Ciao a tutti, in molti casi la prima fase di confezione vera e propria, soprattutto negli abiti o negli abiti su misura, è quella dell'impuntura a mano. In questo caso parliamo proprio di una confezione realizzata con ago e filo, proprio diciamo nella maniera più tradizionale, per iniziare a fissare i vari tessuti fra di loro, in modo che quando noi andremo a realizzare il nostro capo avremo già le varie parti collegate fra di loro in maniera non permanente, perché appunto con ago e filo andiamo solo a fissare una serie di componenti, questo però ci permette di avere la massima precisione durante la fase di confezione vera e propria. La fase di confezione vera e propria, contrariamente a quanto si pensa quando si sente parlare di confezionato a macchina, non è realizzata autonomamente da una macchina, ma la macchina viene sempre guidata e maneggiata da delle persone, quindi anche nel caso di produzione a macchina la componente della persona che gestisce la macchina è fondamentale perché in base alla propria esperienza riusciamo ad avere un effetto più o meno qualitativamente migliore. Ciao a tutti!